Luca, quindi? Come sono? Come è comandata? Beh, anche i giurati, il pubblico è sembrato essersi divertito. Meglio adesso o le preselezioni? Meglio l'esibizione che ha... C'è un teatro grande che ti ha caricato. Com'è stata questa esperienza con Istrio? Beh, io è il secondo anno che lo faccio e... con Istrio non ripresenta voglia. Ho capito, speriamo... Noi siamo dei fan di Luca. E dopo aver inquadrato la curva di Luca, vi auguriamo tanta buona. Buona Sorte. Grazie.